Museo civico. L'ottocentesco palazzo dei Castellotti Pagnanelli costituisce un vero e proprio polo culturale, poiché al suo interno sono ospitati. Il Museo del Merletto a Tombolo, con i manufatti di diverse tipologie e tecniche di lavorazione, le pubblicazioni sul merletto offidano, gli attrezzi, i filati e i disegni, campionari e diversi tipi di punti e lavori antichi e moderni, con redi nuziali, centri, fazzoletti, biancheria, tovaglie. Il turista che si infila tra le viuzze e le stradine della cittadina sicuramente si imbatterà, specie durante la stagione estiva, nelle donne offidane di ogni età, sedute presso l'uscio di casa, tutte prese dal lavoro del merletto a Tombolo. È uno spettacolo osservarle nel fare uso, con velocità sorprendente, di fuselli, meglio noti come cannit, di fili bianchi, refe bianco o grezzo, e di spilli. Il tombolo rigonfio di segatura, noto come l'ucapzal, e i fili di refe sono indispensabili per comporre figurazioni di ogni tipo, il cantù offidano, il punto Venezia, il punto Rinascimento, producenti soprattutto immagini di animali e fiori. Il museo archeologico a Levi, nonostante le vicissitudini di 120 anni di vita abbiano ridotto il patrimonio del museo da 4200 reperti del 1880 ai circa 1500 pezzi repertoriati dall'archeoclub nel 1996, conserva quasi intatto il nucleo fondamentale della Officina Litica, delle due importanti necropoli picene di Offida e Spinetoli, assieme alla decorazione fittile templare di epoca repubblicana, attribuita al leggendario Tempio dell'Office. La collezione segue un preciso ordine cronotipologico, pertanto il percorso prestabilito inizia dai materiali più antichi, per arrivare a quelli di età più recente. Il museo delle tradizioni popolari fu istituito a scopo didattico nel 1986 come museo della civiltà contadina ed artigiana, per iniziativa di alcuni professori della locale scuola media Ciabattoni, e allestito dapprima nei locali sotterranei dell'ex convento di Sant'Agostino e dal 1998 trasferito nel palazzo Castellotti Pagnanelli. L'originale ordinamento, semplice ed efficace perché il visitatore comprenda il contesto e la funzione di ogni oggetto, accompagnato dalla denominazione dialettale, si è voluto mantenere e completare nel nuovo allestimento. La Pinacoteca Comunale è composta da una serie di ritratti donati da padre Andrea Cipolletti del secolo XIX all'amministrazione comunale e realizzati dall'artista Vincenzo Milione nel XVIII secolo. I personaggi raffigurati sono illustri offidani di varie epoche storiche, molti dei quali monsignori ed ecclesiastici. Della Pinacoteca Comunale fanno parte anche due preziose tele, una di Pietro Alemanno, l'altra di Simone De Magistris. L'opera di Pietro Alemanno del 1498, allievo di Carlo Crivelli, raffigura Santa Lucia. Il dipinto, eseguito a tempera, ritrae su sfondo dorato e su un marmoreo trono rosso e grigio dal dossale decorato a candelabri, la Vergine Siracusana in veste marrone e manto turchino a risvolti verdi. Con la testa lievemente china verso destra, la Santa regge in una mano la palma del martirio e nell'altra la coppa con due occhi. Dietro la figura pende un drappo damascato. Dietro la figura pende un drappo damascato.